Amici Trevi Meteo, grande novità da mercoledì 25 sarà online il nostro nuovo sito, nuova grafica, nuovi contenuti, previsioni sempre più aggiornate e inoltre versione per tablet e smartphone ottimizzata. Quindi speriamo che sia di vostro gradimento, come sempre ci fa molto piacere e sentire il vostro parere, quindi vi aspettiamo sul nuovo Trevi Meteo.com. Ora andiamo a vedere le nostre previsioni a medio e lungo termine, vediamo che tempo farà all'inizio di aprile, periodo 1-3 aprile, sperando che non sia il classico pesce d'aprile perché stavolta sembra buttare bene la situazione con l'anticicola dell'Azore che torna a impossessarsi dell'Europa centro-occidentale, tenendo così lontane le perturbazioni atlantiche, anche il nostro paese è coinvolto da questo tipo di circolazione, le regioni più orientali sostanzialmente il versante adriatico, solo l'ambito d'aria leggermente più fresca e instabile diretta verso i Balcani. Ma allora entriamo più nel dettaglio, sarà nel complesso diciamo un periodo buono per l'Italia con ampie zone di sereno, qualche annuvolamento diciamo di passaggio sul versante adriatico e tra l'altro temperature anche miti come abbiamo indicato soprattutto probabilmente al nord ovest dove la circolazione sarà probabilmente favonica e quindi abbiamo anche il contributo dei venti di caduta dalle Alpi, ma in generale in tutto il paese temperature primaverili più che gradevoli. Rimanete con noi per ogni aggiornamento www.trevimete.com o la nostra app gratuita.